E' in programma sabato 20 luglio alle ore 9.30 presso l'Aula Consiliare del Comune di Agropoli un incontro pubblico in occasione dell'inaugurazione dell'Ufficio del Genio Civile dell'Unione dei Comuni Alto Cilento. Saranno presenti i sindaci degli otto comuni che rientrano nell'ambito dell'Unione e il funzionario incaricato. L'ufficio sarà un punto di riferimento dei tecnici operanti nel settore edile che potranno in questo modo evitare di recarsi agli uffici di Vallo della Lucania o di Salerno per il deposito dei calcoli strutturali degli edifici in costruzione ai fini dell'ottenimento dei previsti provvedimenti sismici. L'autorizzazione sismica che verrà rilasciata dall'ufficio è quella prevista per le opere la cui altezza non superi 10,50 metri dal piano di campagna. La sede dell'ufficio, che vede quale responsabile il funzionario Sergio Lauriana, è presente presso la Casa Comunale di Agropoli al primo piano. Sarà operativo fin da sabato 20 luglio. Questi gli orari e i giorni di apertura, al pomeriggio, il lunedì e il venerdì dalle 15 alle 18, al mattino, il mercoledì e il sabato dalle ore 8.30 alle 11.30. Presso il servizio verrà istituita anche la commissione sismica prevista dall'articolo 4b della legge regionale 9.983 per l'esame dei progetti sottoposti ad autorizzazione sismica. L'ufficio si autofinanzierà i proventi dei contributi versati per gli esami delle progettazioni serviranno a garantire il funzionamento del servizio. L'attivazione dell'ufficio viene operata a poche settimane dall'approvazione della delibera, con la quale l'aggiunta regionale della campagna ha autorizzato il trasferimento delle attività e le funzioni del genio civile presso l'Unione dei Comuni Alto Cilento, che ne aveva fatto richiesta qualche mese fa, un importante risultato ottenuto dai sindaci degli otto comuni riuniti nell'ambito dell'Unione.